Giubilate, il giubileo dalla Bibbia a Lentini. Questo è il focus organizzato dalla Aspel di Lauria lunedì 16 gennaio. Nell'anno giubilare indetto dalla diocesi di Tuzzi-Lago Negro, dedicato ai 25 anni dalla beatificazione di Don Domenico Lentini, prete santo di Lauria. Il parroco del santuario diocesano, Don Michelangelo Crocco, è stato relatore dell'incontro. Veniamo dopo il Covid che ha segnato profondamente la nostra vita, si può dire, e quindi vogliamo iniziare con Don Michelangelo, per cui auspichiamo che questo di stasera sia solo un prologo, vogliamo iniziare un discorso anche spirituale, perché anche nel passato abbiamo avuto come nostro interlocutore il combiantissimo arcivesco emerito di Catanzaro, Don Antonio Candisani, il nostro compagno sano, il quale ci ha accompagnato lungamente, lungo un tragitto di ricerca nelle radici del nostro essere. Vogliamo continuare questa cosa, non abbandonando naturalmente le altre discipline che hanno caratterizzato l'Aspel nel suo cammino. Ad un mese esatto dall'inizio della novena per i festeggiamenti in onore del Beato Lendini, tante le cose fatte in questi primi tre mesi dell'anno giubilare e tante altre in cantiere. Un bilancio davvero molto positivo, nonostante i mesi invernali, perché è chiaro, tutte le prenotazioni dei pellegrinaggi, degli eventi, delle giornate diocesane regionali riguardano più la seconda parte per la primavera, anche se poi questo inverno è stato un inverno un pochino atipico, sembrava più la primavera la prima parte. Certamente però ci sono stati diversi pellegrinaggi da più parti e diverse situazioni anche con i ragazzi, con l'accoglienza di pellegrini, che ci hanno comunque fatto sentire questo tempo. Mettiamoci anche che il mese di novembre è il mese in cui preghiamo per i defunti, poi è iniziata la novena di Natale, il Natale che chiaramente occupa anche liturgicamente tutto lo spazio della vita parrocchiale e quindi diciamo che ci siamo rivolti poco all'accoglienza, ma perché anche le altre parrocchie erano occupate chiaramente. Abbiamo tante richieste invece già da adesso, dai primi di febbraio. Il 2 febbraio è la giornata per la vita consacrata, le suore della diocesi vivranno il giubileo qui con la Candelora, per esempio. L'11 febbraio, la giornata del malato, sono invitati tutti gli operatori sanitari della diocesi regionale e poi anche l'unità al si regionale ha già preso la data e poi siamo a ridosso della festa del Beato Domenico Lentini. Il seminario regionale terrà qui la settimana di evangelizzazione. Proprio stanotte abbiamo accordato le ultime cose sul programma che riguarderà il giro nelle scuole e ho informato gli insegnanti di religione, però devo ancora parlare bene con i presidi, quindi i presidi, se mi state ascoltando, passerò il prima possibile. Ci sarà tutto il seminario maggiore, quindi le scuole, gli ammalati, le varie fasce sociali, per esempio penso all'Angelo Custode, le case di riposo, il torrente, penso anche alle famiglie, penso a San Valentino e qui non ti dico altro, penso ai cenacoli di preghiere, cenacoli dell'ascolto nelle famiglie che stiamo organizzando. Abbiamo chiesto la disponibilità di accogliere i seminaristi nelle case per vivere l'esperienza familiare. La novena è in programma di invitare ogni giorno un vescovo, quindi i vescovi lucani, i vescovi di Policastro, visto che c'è questo legame con noi, ex diocesi di Policastro. Anche i vescovi, se mi state ascoltando, io vi sto chiamando poco per volta perché non avevo tutti i numeri, però ecco, sono in accordo con loro. Chiaramente là dove i vescovi saranno impegnati e vorrà dire che ci saranno altri inviti, che non è una ruota di scorta, però è chiaro che i vescovi hanno la priorità. E poi il 25 con il Cardinale Semeraro, che è il presidente della Congregazione dei Santi. Ed è sì un evento davvero importante. Quindi queste sono le tre cose più o meno certe da accordare con i diretti interessati. Poi in mezzo ci sarà di nuovo il Beato Weekend, con tutte quelle cose. Ambia l'offerta tematica dell'Associazione Aspel, che dà appuntamento al prossimo incontro. Abbiamo da fare, vorremmo fare, dedicare una giornata al cinema, presentando un film tratto dal romanzo di un giovane ragazzo africano che a piedi dall'Africano stanno raggiungendo l'Italia, pubblicato un libro un paio di anni fa intitolato Nel mare ci sono i coccodrille, un libro che ha avuto un grosso successo di pubblico. Da questo libro è stato tratto un film, tra l'altro un film interpretato anche da un altro compaesano. e quindi speriamo di poterlo presentare alla cittadinanza. Questo è uno dei momenti più caratterizzanti del nuovo anno accademico, diciamo così.